La reazione del Bologna fa sì che il Como non riesca a centrare una vittoria che fino al settantesimo veramente sembrava a portata di mano e anche meritatissima. È un Como che spreca in diverse occasioni il gol del 2-0 nel primo tempo e del 3-0 nel secondo tempo per poi venire punita dai cambi di italiano azzeccatissimi, dagli ingressi dei giocatori azzeccatissimi e entrati veramente convinti del Bologna nel secondo tempo e soprattutto di un Como che ha avuto un calo fisico netto perché ha tenuto per una buona ora un ritmo di gioco altissimo, scusate, un po' di rosghino, come si dice romano. Detto questo, Bologna ha in quei 20 minuti ribaltato una partita che sembrava veramente persa un Bologna che non mi piaceva, un Bologna che stava facendo veramente fatica a trovare gli spazi a fare gol, anche Orsolini in difficoltà, un Bologna che praticamente i tiri in porta li fa nel secondo tempo. Andiamo insieme a vedere ovviamente tutto quello che è successo in questa partita come sempre il mio è un giudizio opinabile da tifoso non del Bologna e non del Como quindi non ce l'ho con nessuna delle due squadre mi raccomando voi poi nei commenti direte la vostra. Come sempre mi invito a iscrivervi al campionino e a me ti piace come commentare questo è un video che parla di serie A e serie B potete tranquillamente anche nazionale seguirmi perché poi ogni settimana porti il recap appunto di tutte le squadre parlando appunto della classifica di serie A quindi vi invito tifosi del Bologna e del Como a seguirmi per vedere quel video lì ogni settimana e parlarne insieme. Quando poi ci sarà occasione porterò altri post partita delle vostre squadre in base poi ai metodi di lavoro. Il Como scende con Audero, scende in campo con Audero Kempf, Jovine, Strefezza, Cutrone, Dossena, Fadera, Moreno, Sergi Roberto, Perrone e Paz risponde il Bologna con Skrubski, Posch, Beuchema, Casale, Miranda, Freole, Rebischer Pobega, Orsolini, Dallinga e Odgard quindi c'è da notare appunto che innanzitutto il Como torna a giocare nel suo stadio dopo i lavori e appunto ha avuto l'agibilità torna a giocare a Sinigaglia il Como esordi per Casale e Pobega bene il secondo, un po' meno bene il primo farà due errori abbastanza gravi tra l'altro Dallinga che parte titolare nel Bologna al posto di Castro anche Fabian in panchina nel Como, Odero in porta ed era anche ora direi e Nico Paz titolare esordi da titolare anche per Sergi Roberto se non sbaglio cross di Cutrone deviato da Casale esordio da incubo per Casale appunto autogole al quinto minuto del primo tempo è 1-0 Como sicuramente deviazione che spiazza Skrubski e decisiva appunto per il portiere del Bologna quella deviazione che non gli fa trovare il tempo per parlarlo reagisce un po' il Bologna provando a farsi vedere in avanti con un buon spunto di Pobega nelle ripartenze il Como è veramente micidiale approfitta del Bologna sbilanciato si rende molto pericoloso soprattutto nella prima mezz'ora il Bologna prova anche a cercare il parergio con Orsolini a fil di palo e sarà praticamente uno dei pochi squilli del primo tempo del Bologna ottimo primo tempo di Fadera a tutto campo ripiego difensivo mi è piaciuto molto il match di Fadera peccato che poi andrà a sprecare quel pallone del 3-0 che vi racconto tra poco veramente lì la partita sarebbe per me chiusa si sarebbe chiusa lì poi Casale che si riscatta della sfortunata deviazione respinge un tiro di Cutrone che forse sarebbe entrato perché era ben indirizzato quindi si riscatta un po' Casale in questa occasione sul corner successivo Dolsena che colpisce di testa va vicino al gol Nico Pass poi fa un filtrante perfetto per Cutrone ma senza fortuna ragazzi Nico Pass fa delle giocate tecnica e classe veramente forse un po' troppo a volte esagera nella giocata però però mi è piaciuto mi è piaciuto tanto ce l'ho affanto a calcio speravo facesse gol però è partita da 7 quella di Nico Pass senza dubbio secondo me beh ok ma molto spesso è in difficoltà con Cutrone non regge il passo poi viene dato rigore al Bologna per fallo di mano ma poi viene tolto e cambiato con una punizione dal limite le immagini non sono chiarissime l'ha fatta vedere una mezza volta sì il fallo c'è ma non si capisce se è dentro o fuori io non mi esprimo perché obiettivamente l'ha fatta vedere una mezza volta finisce il primo tempo con un Como che ha pressato molto il Bologna ne ha sofferto ha sofferto abbastanza e senza tiro in porta per il Bologna uno solo del Como tra l'altro che non è neanche quello del gol inizia il secondo tempo Fabiano al posto di Eibischer nel Bologna Eibischer che era anche reduce dalle fatiche europee quindi comunque ci sta Cutrone che nel primo tempo aveva avuto un'ottima occasione per il raddoppio non fallisce nel secondo tempo al cinquantatresimo è 2-0 Como con Miranda che veramente va un po' a funghi che gli lascia troppo spazio per tirare e Skorupski è così battuto Cutrone che si fa così perdonare il rigore sbagliato nella giornata precedente c'è un checking al VAR che tutti si domandano in perché perché fanno vedere comunque le posizioni tutte regolari c'è un problema tecnico poi alla fine si telefoneranno dopo 5 minuti di problemi tecnici siamo in Italia cosa volete mai si riesce a recuperare appunto e il gol è valido non ci sono altri problemi se non quelli di comunicazione tra Lissone e l'arbitro strefessa spreca il jolly per il 3-0 è ancora peggio Fadera che lanciatissimo in aria con anche un compagno libero in mezzo tira e spreca veramente un'occasionissima per il 3-0 in quel momento in Bologna era veramente sulle gambe e col 3-0 per me la partita sarebbe stata chiusa e come si dice spesso nel calcio go sbagliato go subito e così sarà entrano appunto Castro e Iling Junior per Orsolini e Dalinga e la partita cambia penso che Italiano con questi due innesti qui abbia sì cambiato la partita gliel'hanno cambiata soprattutto gli interpreti loro in campo ma la prossima domenica mi sa che ci pensa un attimo a tenere giù Castro soprattutto Fabiano si gira bene poca potenza nel tiro Audero para poi entrerà anche il gol da Niga per Dossena nel comodo Dossena che se non è lo si è fatto anche male incommiabili i tifosi del Bologna che hanno cantato per tutti i 90 minuti si sentono parecchio anche quelli del Como è ovvio però si sentono molto quelli del Bologna considerando anche che sono in trasferta è giusto elogiarli Pobega poi ha l'occasione migliore del match per il Bologna ma palo pieno e qui ragazzi si inizia a vedere perché prima Fabian poi il palo di Pobega si inizia a vedere la reazione che l'italiano tanto voleva e inizia a tirare un po' il freno il Como il Como che era veramente sulle gambe era a fiato corto e appunto Castro segna il gol che riapre il match come spesso accade gol mangiato gol subito come ho scritto qua poi uscirà Cutrone con la standing ovation a 76 77 uscirà anche Fadera entreranno Dacuna e Belotti praticamente inesistenti da quando sono entrati Iling Junior fa un gran gol anche qui Castro protagonista con un gran assist e veramente il Bologna recupera una partita che meritava di perdere fino al 75 siamo onesti tutti quanti anche voi bolognesi amici che mi seguite sono di Ravenna quindi siamo amici ma anche voi Comaschi penso che siete tutti onesti a dire che il Como al 75 70 fino al 70 strameritava la vittoria reazione d'orgoglio sì bravo bravo a crederci Bologna perché poi alla fine rischia anche di vincerla comunque si sveglia tardi Bologna ma si sveglia bene io ho scritto nei miei appunti e invece Como deve ramarecarsi tantissimo deve speccare un'occasionissima soprattutto per quelle due palle goal del 3-0 sprecate veramente veramente male complimenti a Bologna che ci ha cresciuto fino alla fine complimenti anche al Como che ha fatto veramente un ottimo match per 70 minuti a me il Como era piaciuto veramente tanto e quindi brave tutte e due è un pareggio che visto come è andato l'arco di 90 minuti ci sta ma obiettivamente al 75 se mi aveste detto punta un euro sull'X2 del Bologna avrei detto di no è più facile che l'avrei puntato sul 3-0 del Como bravo appunto il Como comunque a fare un'ottima partita è un Como che sicuramente dovrà farsi un po' le ossa in Serie A qui l'esperienza sicuramente giovato più al Bologna che al Como è un Como che dovrà leccarsi le ferite e cercare di sprecare meno e vedrete che l'occasione per la vittoria arriverà anche per i lariani e il Bologna bisogna che capisci un attimo chi far giocare da subito e chi no perché vedo l'italiano un po' in confusione è un Bologna un po' in rodaggio staremo a vedere vi saluto ci vediamo presto con altri video andate a vedere se vi va il pre-partita di Atalanta Fiorentina che ho fatto con Filippo Ferroni ho fatto il video delle maglie di Serie A e Serie B mi farebbe piacere se andate a vedere il video del Como o del Bologna nelle maglie e mi dite la vostra ho fatto anche quelle delle maglie UMA che ormai è passato un mese fa vi invito a venire lì a giocare anche al gioco dei pronostici se vi va con me ogni settimana appunto l'invito con voi bolognesi comaschi e tifosi di calcio in generale per il recap di Serie A che uscirà martedì perché lunedì sera giocano quindi vi aspetto ci vediamo presto il vostro ammonto mi raccomando iscrivetevi al canale di Atalanta Fiorentina mettete il piaccio commentato a presto ciao buon sabato